abbiamo ascoltato ultimo con niente adesso siamo tornati non solo in diretta streaming sulla pagina di facebook ma anche in diretta fm ed è qui che diamo il benvenuto al nostro ospite eccolo è vittorio buongiorno è il regista di ask the sun can we change the future e non lo so chiederemo a lui vittorio ci senti io vi sento non so se mi sentite ci sentiamo forte e chiaro buongiorno da bologna con un cielo latte o stamattina che per annuncia chissà quali sconvolgimenti senti tutto è pronto per domani al biografi di bologna al cinema lumiere per la tua anteprima mondiale del film loro sono pronti io non ancora come no perché non sei pronto sempre un po in ansia perché insomma ci sono ancora tante cose da tanti amici da invitare stamattina mi sono svegliata alle sei con un po di nomi come ho fatto a dimenticarmi questo questo è quello che ho cominciato a mandare messaggi alle sei del mattino ad amici che avevo dimenticato di avvertire sono quelle nottate in cui ti svegli più stanco di quando ti sei andato a coricare stranamente sono a pezzi ora che il film esca e che vada in onda ma appunto sono sono già stanchissimo per cui ricordiamolo il film verrà trasmesso da sky art e è già un po' esattamente in autunno non c'è ancora una data precisa ma diciamo grosso modo l'autunno anche perché dopo questa anteprima per me molto importante è una particolare mondiale al biografilm a bologna e il film farà sarà ospitato parte non proprio il film ma diciamo l'esperienza del viaggio con le foto e gli appunti i disegni e i libri che abbiamo raccolto in questo viaggio con mio figlio in arizona sarà ospitato alla farm cultural park di favara in che è un museo un centro culturale che io amo molto è meraviglioso che l'ha pensato l'orinda esattamente ci hanno ospitati tra l'altro in questi giorni stiamo facendo a distanza l'installazione dei materiali e abbiamo portato tutte le nostre foto che abbiamo raccolto i disegni gli appunti per raccontare questa questa esperienza di viaggio che ho fatto con mio figlio che è nata come una cosa un po particolare mio figlio a quando ho compiuto 18 anni ha espresso il desiderio di studiare in futuro architettura il futuro poi in realtà si è avverato nel senso che lui si sta quasi diplomando in architettura e invece che un regalo diciamo fisico un oggetto che probabilmente avrebbe dimenticato in un cassetto un orologio o qualcosa e gli ho regalato questo viaggio verso l'utopia di paolo soleri che io avevo già studiato che non avevo conosciuto fisicamente avevo viaggiato già nei diserti del del della zona esattamente texas arizona mi ero già fatto per i forni mi ero già fatto un po di vigili tra l'altro avevo sfiorato soleri poco prima che morisse proprio lì appunto in arizona e gli ho fatto questo regalo chiedendogli così se aveva voglia di partecipare a questo viaggio che inizialmente doveva essere un viaggio solo io e lui avendo io solo due mani dovendo guidare non pensavo avrei potuto fare più che qualche foto in realtà l'ultimo minuto si è aggiunto un un operatore molto bravo che mi aveva contattato lui viveva a londra aveva letto un mio libro che raccontava i miei viaggi a detroit a los angeles a berlino e questa cosa è nata un po all'avventura nel senso che io ho organizzato il viaggio e ho voluto prendere contatti con la fondazione cosanti che porta avanti il lavoro di paolo soleri morto nel 2013 però ho voluto che fosse una cosa spontanea che mio figlio un ragazzo di 18 anni con la ingenuità che è giusto che abbia un 18 anni affrontasse questa esperienza che è stata molto importante dagli anni 70 e quando paolo soleri ha fatto creato questo insediamento urbano questo urban laboratory come lo chiamano loro ancora ad arcosanti ha un po sconvolto le regole della dell'architettura della della urbanistica della sociologia soprattutto infatti è stato un po estromesso dall'accademia dall'architettura vera e propria ed è diventato quasi un visionario quasi un più un filosofo che un architetto anche perché come architetto ha costruito pochissimo e per costruire arcosanti nel 1970 si fa aiutare da studenti di architettura da tutto il mondo che addirittura pagano per andare a costruire insieme a lui e mi sembrava allora capisco che qualcuno potrà dire è un hai messo un peso su tuo figlio è così importante per una roba del genere però mi sembrava bello dargli questa possibilità spavancargli una porta e fargli vedere una cosa possibile un possibile futuro non gli ho dato e non gli ho impartito volutamente prima del viaggio le mie i miei pensieri su arcosanti su paolo soleri giusto sbagliato volevo che lui si rendesse conto e con la sua sensibilità di quello che stava vedendo e quello che può raccontare la storia di arcosanti a un ragazzo di 18 anni oggi e poi lui appunto si è iscritto ad architettura ma anche quello era un come dire quasi più una forse il viaggio lo ha condizionato il viaggio l'ha condizionato ma tra l'altro devo dire che adesso si sta diplomando aspetta si è interrosso vittorio approfittiamo per mandare un brano c'è luca carboni con bologna è una regola e poi da qui ci ritroviamo in diretta streaming sulla nostra pagina facebook di radio in si è frizzato come si si è bloccato l'ospite vittorio buongiorno se vuoi possiamo mandare il trailer del film vediamo perché mi sa che nel frattempo vediamo 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 ciao 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 So Larry came to Arizona to study with Franklin Wright. He was a very brilliant man, also a man who saw the world in the big picture, and especially with how are we, mankind, how are we moving into the future, and the possibility of doing it in a different way. For a night, cling to the bar, then disappear from sight. That's it. abbiamo ripristinato il collegamento è un viaggio Eliana che si trasforma in un road movie sono convinto che questo è un lavoro che rende omaggio a un grande architetto che ricordiamo fu uno degli allievi migliori di uno dei più grandi e visionari artisti mondiali che è Frank Lloyd Wright la sua scuola è stata veramente capofila e rivoluzionaria e prova a immaginare nel deserto dell'Arizona questa città utopica un po' ti ricorda anche l'utopia del grande Campanella ma in realtà diventa quasi un viaggio interiore di un padre con il figlio e quello che mi preme tantissimo ripristinando il collegamento con Vittorio Buongiorno è capire e sentire le sensazioni di questo ragazzo 18enne e che si illumina nell'arrivare in questi luoghi e farsi soprattutto suggestionare vediamo se recuperiamo Vittorio e questa è una domanda eccolo ce l'abbiamo che abbiamo ripreso Vittorio ritorniamo anche in FM visto che abbiamo tutto ed eccoci tornati abbiamo ripristinato il collegamento con Vittorio Buongiorno noi nel frattempo in diretta streaming sulla nostra pagina di Facebook di Radio Ena abbiamo anche visto il trailer e siamo rimasti tipo wow ecco siamo rimasti così fantastico le prime immagini che ci fanno rimanere veramente a bocca aperta ed è un film nel film quello tuo con tuo figlio la storia di questo grande artista insomma sono tante narrazioni l'omaggio a Soleri che credo sia anche stato un po' dimenticato Vittorio sì assolutamente è stato dimenticato perché allora forse lui un pochino si è voluto far dimenticare nel senso che si è isolato in questo luogo che è un luogo non dimentichiamolo tra i più inospitali del mondo dove lui ha comunque provato e l'ha fatto l'ha messo in pratica un'esperienza appunto alternativa noi abbiamo provocato un pochino i residenti con questa storia dell'utopia e loro sono giustamente non dico infastiditi ma si difendono dicendo questa non è un'utopia questa è un tentativo noi viviamo qui tant'è vero che non dimentichiamolo che dal 1970 a oggi ci vivono regolarmente un centinaio di persone per cui vivono fanno una vita normalissima felicissima ricca di esperienze interiori e di collegamenti anche con il mondo tant'è vero che da tutto il mondo ragazzi e ragazze vanno lì a fare workshop di ceramica loro fanno tutti i giorni le colate di bronzo fuso e le ceramiche per vendere le campane che aveva disegnato Soleri per cui è una piccola comunità che funziona ovviamente essendo piccola di numero la cosa per me appunto fondamentale era raccontare un po' la storia di questo visionario che è stato dimenticato o volutamente dimenticato e soprattutto però far vedere sia il luogo come avete visto dalle immagini del trailer il deserto è straordinario io che sono siciliano e che sono abituato a certi colori della terra mi sono trovato abbastanza a mio agio mio figlio che è un bolognese doc nonostante abbia vissuto tanto con me in Sicilia nelle vacanze nei viaggi ovviamente era un pochino più spaesato e però qualcuno ha notato che vedendo il trailer ha notato questo sguardo di Giulio abbastanza meravigliato sorpreso da un'esperienza effettivamente un po' fuori dal punto era questa la domanda che avevo in serbo prima di che si staccasse il collegamento lo stupore e gli occhi di tuo figlio sicuramente non ti hanno abbandonato durante questo viaggio sì assolutamente questa è una cosa che ti ringrazio molto di averla segnalata perché appunto qualche giorno fa anche qualche amico che ha visto il trailer mi ha detto la stessa cosa e spero che venga fuori dal film io penso che quando ho fatto il viaggio anche con nonostante l'occhio della telecamera dell'operatore che ci ha filmato da dietro la macchina ovunque nelle nostre stanze di hotel in modo discreto nonostante sapevo che eravamo filmati sono rimasto veramente colpito da questa esperienza umana tra l'altro con questo operatore che io avevo visto una volta prima di partire e che mio figlio non conosceva lui aveva un po' di timore che si rompesse la nostra sintonia e io ti guarda sicuramente non succederà tant'è vero che Nick che l'operatore è un po' più piccolo di me un po' più grande di Giulio si è creato questo trio straordinario per cui viviamo ancora a distanza di tre anni i ricordi le battute di questa esperienza di viaggio che è fatta appunto di sguardi anche di stanchezza perché verso la fine dell'esperienza quando sapevamo che saremmo dovuti tornare a casa eravamo contenti di tornare a casa come da ogni viaggio però sapevamo che ci saremmo scontrati con un mondo completamente come dire civilizzato e dedito al consumismo sfrenato dove aver vissuto dieci giorni in una sorta di paradiso in una sorta di mondo di fantasia poi in realtà loro ci vivono in questo mondo per cui è bello anche coltivare questi due mondi ed è il senso poi che ho voluto regalare mio figlio il regalo vero era questo cioè guarda cosa succede in una parte del mondo ce ne sono tante altre e in tante altre parti del mondo vivono queste esperienze così e questo gli ho regalato 18 anni Vettorio io non ti nascondo avendo un figlio di 24 anni che fa il musicista e che tra l'altro ha preso la strada della musica per film qui al conservatorio di Palermo non ti nascondo che sento un piccolo fuoco dentro perché il lavoro che tu hai fatto introspettivo su te stesso accanto a tuo figlio ripercorrere le orme di uno dei più grandi visionari del novecento come Soleri sono certo che questo lavoro ti ha lasciato tanto dentro mi riferisco anche al fatto che quella del 1970 fu anche una provocazione quella di Soleri nel creare una città utopica a basso impatto ambientale nel potere dimostrare al mondo come un esperimento quindi una sperimentazione nel deserto possa funzionare ecco la mia domanda finale è proprio cosa ti rimane di questo lavoro e come immagini di diffonderlo e veicolarlo guarda la cosa secondo me più bella per esempio domani so che Giulio ha invitato una decina di suoi amici che normalmente non frequenterebbero magari un festival di documentari come Biografil nonostante sia un festival che si sta facendo molta strada e molto di sé però appunto un pubblico sicuramente inedito mi piacerebbe portare questo film in luoghi appunto meno canonici dei tradizionali e soprattutto mi farebbe piacere farlo vedere ai ragazzi vorrei che i ragazzi e le ragazze della generazione di mio figlio anche poco più piccoli poco più grandi lo vedessero come appunto una esperienza come una possibilità Soleri ha detto delle cose incredibili lui già negli anni 70 diceva si scagliava contro la distruzione delle città da parte delle automobili diceva dovremmo usare l'automobile per andare da un punto A a un punto B e lasciarla per qualcun altro che vada dal punto B al punto C e gli dicevano sei un pazzo oggi tornare indietro sul car sharing sarebbe questa lo diceva 53 anni fa esattamente questo signore lo diceva negli anni 70 anche un po' prima per cui ci sono questi visionari che hanno avuto delle caratteri come dire Soleri aveva avuto un caratterino niente male perché è stato buttato fuori dalla scuola di Frank Lloyd Wright quando lui va a studiare in America da lui appunto dopo poco più di un anno è stato cacciato si dice è stato un cortocircuito ma si sa che cosa è accaduto per farlo cacciare si conosce l'aneddoto e vedi la questione spinosa e si blocca meno male perché abbiamo la pubblicità e poi torniamo insieme siamo eternissimi si è bloccato il collegamento torniamo fra poco eccolo qua ti ritrovo ti avevo chiesto poco fa ma si sa cosa è accaduto per far buttare fuori dalla scuola siamo in diretta si? ah non si può dire in diretta ah è un fatto segreto no 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 era una battuta la mia no in realtà dalle biografie che ho letto soprattutto di Wright c'è stato un problema caratteriale anche perché sinceramente Soleri stava già sviluppando questa sua idea che andava in netto contrasto con l'immagine e con la concezione dell'urbanizzazione di Frank Lloyd Wright i due avevano due caratterini molto spigolosi per cui sono stati un po' è stato quello che li ha non credo che ci sia stato nulla di più che questo poi si dice che Soleri partecipò a un concorso anzi tutta la scuola di Taliesin di Frank Lloyd Wright partecipò a un concorso per la costruzione e l'ideazione di un ponte e si dice che Soleri fece quello più bello che venne messo in mostra e questa cosa Wright insomma non la fece proprio bene per cui credo che fosse solo una questione di caratterini l'allievo che superò il maestro e sai a livello di internazionale comunque non è riuscito forse così così tanto ad affondare il colpo però riflettevo sulle parole che ci diceva Vittorio sul desiderio di portare dalle scuole ai giovanissimi perché parlo sempre per sensazioni la sensazione è che ci sia un divario generazionale particolarmente marcato in cui per molti figli di questo tempo chi prima ha distrutto il pianeta chi prima ha vissuto di politiche distanti dalla società chi prima ha fatto tante cose che ci portano oggi a una società che non funziona bene è da buttare e i giovani sanno cosa fare nel futuro c'è un po' un dire ok voi ci avete provato non ce l'avete fatto ci pensiamo noi e basta invece mostrare quello che di buono c'è stato anche quei personaggi visionari e far percepire tutto questo secondo me è importantissimo non so se poi tu avendo più contatto con i giovani hai questa sensazione assolutamente infatti la cosa che mi fa un po' arrabbiare è che la parola sostenibilità è sulla bocca di tutti ormai 24 ore al giorno in realtà sta perdendo il significato sostenibile è mia nonna quando riempie la bottiglia di latte con il latte fresco o il cibo che avanza lo dà le galline voglio dire la cosa incredibile è che Soleri l'ha fatto l'ha fatto dagli anni 60 e con Arcosanti con la prima pietra di Arcosanti l'ha fatto e lo continuano a fare lì appunto dal 1970 per cui la sostenibilità si può praticare ovviamente non è la soluzione a tutti i mali del mondo quello che fanno ad Arcosanti ma è una possibilità infatti il sottotitolo di Ask the Sand Can we change the future io lascio questa domanda vorrei che a rispondere fossero i ragazzi più giovani che non i vecchiacci politici che hanno semplicemente rovinato questo mondo vorrei che loro potessero dire la loro vorrei che mio figlio e i suoi amici e le sue amiche lo rispondano e abbiamo interrotto Vittorio Buongiorno perché è terminato il brano che stavamo ascoltando alla radio ma ricordiamo che attraverso la pagina di Facebook potete ritrovare il video della nostra diretta dove ci sono degli approfondimenti che durante i brani noi continuiamo a fare abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare di Ask the Sand Can we change the future con Vittorio Buongiorno abbiamo già anticipato che il giorno 14 ci sarà un'anteprima mondiale a Bologna con la proiezione di questo lavoro ma noi attenderemo con pazienza che torni l'autunno se arriverà l'estate del tutto attenderemo con pazienza che arrivi l'autunno per poi poterlo vedere su SkyArte io nel frattempo Vittorio ne approfitto per dirti che il centro sperimentale a Palermo la sala bianca è a tua disposizione per la proiezione e l'incontro con i nostri studenti del corso di documentario sono dei momenti che ci piacciono tantissimo e che comunque apriamo anche alla città perché non ci riteniamo solo per noi tra l'altro scusa non so se ti interrompo non so se sai che io sono nato a Palermo per cui voglio dire mi sembra a questo punto che dobbiamo farla a tutti i posti nel 1973 so anche questo tre anni dopo e che collabori col voglio oltre ad avere fatto tantissimi documentari avere scritto bellissime sceneggiature Vittorio quindi voglio dire prima della proiezione su Sky Art e vieni a fare un incontro con l'autore da noi e passate dalla farm anche dal 24 giugno troverete in mostra tutto il lavoro e poi magari appunto ci troviamo a Palermo sarebbe veramente un bellissimo premio per questa storia non vedo l'ora di riuscire a farla dai ci ha entusiasmato questo tuo racconto Vittorio vi ringrazio molto vi ringrazio molto grazie Vittorio buongiorno grazie per essere stato con noi in bocca al lupo per questa bellissima prima sono le 10 minuti quindi salutiamo il nostro ospite dobbiamo dare immediatamente la linea alla redazione perché ci sono le news di Radio In Radio In grazie a tutti